Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta cocco e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono fecola di patate, farina di tipo 00, zucchero, yogurt al cocco, olio di semi di arachidi, lievito per dolci vanigliato, uova, cacao amaro, sale, farina di cocco, latte e pasta di limone. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere le uova ed azionare il bimbi per 8 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Aggiungere l'olio e lo yogurt. ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 3. Aggiungere la farina di cocco, la fecola, la farina, il cacao amaro, il lievito, il sale, il latte e la pasta di limone. ed azionare il bimbi per due minuti a velocità 5. versare l'impasto in uno stampo da 24 centimetri ben imburrato e infarinato. cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 50 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. la torta è cotta, lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere dallo stampo e servire. torta, cocco e cacao grazie e alla prossima ricetta e sotto, dobar ora, Barbara. un piacidino per il bimbi per due minuti. un piacidino Grazie a tutti.